Musica Buche, avvalamenti e tratti pericolosi protestano i residenti delle strade di San Cesaro e Sant'Elia a Carrara di Fano, qui serve un intervento urgente. Cittadini segnalano lo stato di derradua del cimitero di Rosciano e lanciano un appello al comune di Fano. Antonio Tajani domenica a Fano per incontrare i cittadini e i candidati alle prossime elezioni amministrative e l'appuntamento è in un noto ristorante della città. A Cartoceto l'incontro tra la Polizia di Stato e i genitori degli studenti dell'Istituto Comprensivo Marco Polo, al centro dell'iniziativa La Sicurezza Online. E' iniziato oggi il primo festival fanese dedicato al fitness e al benessere di Mente e Corpo. L'evento presenta una serie di iniziative organizzate. Ospiti prestigiosi per il programma di Sky Sport, calcio mercato l'originale, tra i nomi anche Beppe Bergomi, ex calciatore e capitano dell'Inter. Benvenuti a Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. Strade dissestate, avvallamenti e buche pericolose. Questa mattina con Filippo Pucci abbiamo raccolto le lamentele dei residenti di strada località San Cesario e Sant'Elia nella frazione di Carrara a Fano. Vediamo. E' 50 anni che sto qui, una schifenza di questo genere non l'ho mai vista. Prima poco, però almeno due o tre volte all'anno venivano a giustarla. Adesso non si vede più nessuno. Sono solo alcuni dei tanti residenti esasperati che da diversi anni denunciano lo stato di abbandono della strada in località San Cesario nella frazione di Carrara. Il percorso si collega con strada comunale Sant'Elia e come raccontano gli abitanti è diventato impossibile praticarlo tra buche, affossamenti e zone anche pericolose. Risiedo a San Cesario, qua nella zona di Montepulito dal 98. La strada è sempre stata in queste condizioni, creando disagio, pericolo e soprattutto danni alle autovetture. Perché buche, controbuche, avvallamenti, sospensioni, gomme e tutto il resto è una cosa che non è decente. Per cui gradiremmo molto. Un intervento radicale che sistemi per un periodo abbastanza lungo lo stato della strada. Perché i rattoppi fatti così sul lamentele giornaliere durano il tempo di una settimana e dopo le buche si riaprono in continuazione. Per quanto sia ci muoviamo abbastanza di frequente, per cui non è parto al mattino e torno alla sera, devo andare a fare la spesa, devo andare in comune, devo andare in banca. I viaggi, almeno per quello che riguarda la mia persona, sono frequenti nella giornata e quindi il disagio si sente bene. Inoltre, da come si può notare da queste immagini, sono diversi gli avvallamenti al lato e al centro della strada. Questo ha favorito lo sfregamento nella parte sottostante delle auto e dei furgoni, creando diversi problemi, per non parlare delle numerose buche. Frequento spesso questa strada qui, mi è capitato già due volte di portare la macchina dal meccanico e tutte e due le volte gli ammortizzatori erano rotti e chi ha pagato? Purtroppo le mie tasche. È invivibile, è una strada veramente pietosa. Sono circa 50 le famiglie interessate che frequentano questo tragitto e ci sono anche giovani che recentemente si sono insediati in questa zona. Io sono una new entry, è evidente che siamo qui a lamentarci per le strade che sono in condizioni pietose a dir poco. Non si può pensare di venire a rattopare una buca e lasciarne aperte quattro. Ci vuole un intervento radicale, le macchine si rompono, non è una strada di collegamento. Ci sono residenti, quasi tutte le case sono abitate qua. Il problema di moltissimi residenti è che ovviamente con queste buche ogni tanto una si prende, perché non ce n'è una ogni tanto. È pieno, si prende, si buca una ruota, si rompe l'amortizzatore, le sospensioni, i problemi ci sono in continuo. Chiediamo quindi di intervenire con urgenza, anche perché è difficile mantenere la carreggiata giusta qua. È troppo problematico. Proseguendo invece per strada Sant'Elia, la situazione è anche peggio. Infatti nel tratto dove la strada diventa bianca si sono formati dei veri e propri canali di scolo delle acque piovane in mezzo alla carreggiata. Pure il trattore che vedete in questo video fa difficoltà a percorrerla. Risiedo qui dal 2010. La soluzione migliore per questa viabilità sarebbe di fare l'asfaltatura grattando l'asfalto che è faticente, dove ci sono delle buche veramente notevoli e anche ad allungare l'asfaltatura di alcune centinaia di metri perché nella strada bianca dove vivono delle persone, delle case, delle famiglie, quando piove ci sono delle scanalature impressionanti, delle voragini, dove necessita immediatamente il più presto possibile un intervento da parte dell'amministrazione. Ad intervenire su questa vicenda è stata anche Forza Italia Fano. Tutta questa strada qui è stata trascurata. Avevamo già fatto come Forza Italia una lettera al comune circa due mesi fa. Non abbiamo avuto nessuna risposta. Il comune ha poi mandato a chiudere delle buche. Ma qui la situazione è tragica. Ci sono degli avvallamenti non indifferenti. Sembra una perdita di acqua, sembra. È una situazione che va in qualche modo sistemata. È il prima possibile. Non perché ci sono le elezioni, ma perché c'è una necessità. Raccolta firma e segnalazioni da parte dei cittadini e della candidata di Civi Cifano Romina Bucchi per rendere noto lo stato di degrado del cimitero di Rosciano. Il servizio è di Stefania Schiaroli. La candidata di Civi Cifano Romina Bucchi insieme ad altri cittadini hanno segnalato e mostrato il degrado al cimitero di Rosciano. Danni evidenti e molto gravi, come soffitto in un intero corridoio impregnato d'acqua che scende nei loculi fino al pavimento. Oltretutto la parte in questione è priva di illuminazione e quindi molto pericolosa. Questi sono solo alcuni dei problemi evidenziati. Pertanto questi cittadini fanno un appello al comune di Fano affinché si occupi dei lavori necessari che merita questo luogo sacro. Nel cimitero di Rosciano c'è una parte in degrado totale con infiltrazioni dal soffitto e queste infiltrazioni molto grosse penetrano nelle bare dei nostri defunti. Quindi sono qui per segnalare questa situazione. L'ascensore non funziona, quindi le bare vengono trasportate con una carrucola. Quando piove abbiamo l'acqua nel pavimento, quindi anche rischio di pericolosità nel camminare. La luce non c'è più in questa ala, quindi siamo molto arrabbiati. Abbiamo fatto una raccolta firme e siamo in tanti per segnalare questo problema. Quindi che cosa chiedete al comune? Al comune chiediamo di risolvere al più presto, di ripristinare questa zona visto che da dicembre 2023 è stato appaltato il lavoro e la ditta incaricata non facciamo il nome. Diciamo che secondo noi non ha svolto il lavoro giusto e quindi chiediamo al comune di fare dei sopralluoghi e di sistemare, ripristinare subito l'area perché è in degrado totale. Chiediamo anche una vigilanza, telecamere o di persona per tutelare tutti i nostri ricordi che lasciamo sulle tombe dei nostri cari perché sono diventate troppe mancanze. Quindi chiediamo questa sorveglianza al più presto, insieme ai lavori. In merito alla segnalazione arrivata nei giorni scorsi alla nostra redazione sulla mancata sistemazione dei segnali della viabilità in via Barocci dopo i lavori effettuati su via Caduti del Mare il telespettatore fa sapere che l'amministrazione comunale è intervenuta riportando la segnaletica al proprio posto evitando così pericoli e incidenti. Passiamo alla politica. Domenica 19 maggio, alle ore 17, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri, Antonio Tajani, sarà a Fano. L'incontro si svolgerà presso il noto ristorante Pesce Azzurro in Viale Adriatico 52. Il ministro e segretario nazionale di Forza Italia incontrerà i cittadini, gli amministratori locali, le associazioni e i candidati alle prossime elezioni amministrative. affronterà temi di politica nazionale e locale concentrandosi altresì sui punti programmatici principali presentati da Forza Italia per le prossime elezioni europee. Saranno presenti i rappresentanti locali e regionali di Forza Italia unitamente al segretario regionale, nonché responsabile nazionale dell'organizzazione del partito, l'onorevole Francesco Battistoni. Il Comitato Centro Storico Fano ha organizzato per domenica 19 maggio alle ore 10.30 al Pinobar un incontro con i tre candidati sindaco di Fano per parlare delle problematiche del quartiere centro storico. L'incontro sarà l'occasione per porre ai candidati alcune domande riguardanti la gestione del quartiere. Azione Cattolica, l'Oratorio Acli e la Parrocchia Santa Maria Goretti offrono un'opportunità di confronto per la città con i candidati a sindaco di Fano. Il confronto, moderato dalla giornalista Enrica Papetti, si svolgerà lunedì 20 maggio alle ore 21 presso i locali dell'Oratorio Sant'Orso in Via Montesi 3. Sarà possibile seguire il confronto anche su YouTube, Facebook e Instagram di Azione Cattolica Sant'Orso. Cambiamo argomento, sarà pubblicato lunedì 20 maggio il bando accoglienza, rivolto principalmente ai comuni e finalizzato al miglioramento della qualità dell'offerta turistica regionale e alla promozione del territorio. La dotazione finanziaria complessiva è di 4,2 milioni di euro di fondi regionali alla quale si aggiungono ulteriori fondi derivanti dal Fondo Unico Nazionale per il Turismo. La chiusura del bando è fissata al prossimo 18 luglio. A Cartoceto la Polizia di Stato di Pesaro ha incontrato i genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo Marco Polo per una giornata inserita nell'ambito della campagna educativa itinerante denominata Una vita da social. Lo scopo dell'incontro è quello di promuovere la responsabilizzazione dei giovani nell'uso della parola online, andando a consolidare l'attività di prevenzione che la Polizia Postale svolge su più fronti a livello nazionale e territoriale. Il progetto, grazie alla sua versatilità, continua ad essere particolarmente efficace nella trattazione delle tematiche più attuali e di maggior interesse per i ragazzi. La sicurezza online, abbinata all'uso consapevole degli strumenti che la rete offre e la prevenzione dei fenomeni legati al social network, fra cui il cyberbullismo. Cambiamo argomento. Resi noti i prestigiosi ospiti che dal 3 al 7 giugno parteciperanno alla trasmissione di Sky Sport, calciomercato l'originale che verrà ripresa a Fano. Scopriamoli insieme con la prossima intervista realizzata da Massimo Foghetti. È appena terminata una bella giornata di sport che subito se ne preannunciano altre, quelle del calciomercato l'originale che avrà luogo nelle prime giornate di giugno. Corrado Moscelli, di comunica che cosa si preannuncia? La trasmissione tornerà a Fano dal 3 al 7 giugno nell'ex chiesa di San Francesco. Andrà in diretta dal lunedì al venerdì dalle 23 alle 24. Siamo contenti di essere riusciti a riportarla nella nostra città. Avremo volti conosciuti del grande schermo da Beppe Bergomi, Marocchi, Lorenzo Minotti, Federica Masolin. Per una settimana questi personaggi saranno a Fano, la visiteranno, visiteranno non solo la nostra città ma anche il suo entroterra, la costa, il mare, la spiaggia, faranno tante attività e quindi una grande occasione di promozione per Fano e per le marche più in generale. Beppe Bergomi, lo storico capitano dell'Inter, uno dei commentatori per eccellenza di Sky Sport, verrà a Fano per la prima volta. L'anno scorso non era stato della trasmissione per altri impegni. Oltre a lui, come volto nuovo, ci sarà Federica Masolin, la conduttrice per eccellenza, il volto femminile per eccellenza di Sky Sport da quest'anno abbinata alla Champions League. Quindi siamo contenti di essere riusciti a portare questi due personaggi insieme, come dicevo, a tanti altri che per una settimana intera vivranno la nostra città, il nostro territorio. Quindi grande promozione per Fano e per tutte le marche. Vogliamo ridire anche come il pubblico potrà accedere alla trasmissione? Sì, l'ingresso è gratuito, ma è importante prenotarsi. Sul sito di Comunica si troverà un form da compilare per prenotarsi e quindi partecipare alle varie dirette. Ovviamente chi riuscirà a farlo, perché le richieste ce ne aspettiamo veramente tante, riceverà una mail di conferma con l'accredito per poi poter entrare all'ex chiesa di San Francesco. E se piove? Se piove è già stato individuato un luogo in cui comunque andare in diretta, che è la Sala dei Globi della Biblioteca Federicciana. Una bellissima scenografia anche qui, che però non ci permetterà di ospitare il pubblico. Quindi incrociamo le dita e speriamo che sia bel tempo per tutta la settimana. Ha preso il via oggi il primo festival fanese dedicato interamente al fitness e al benessere di mente e corpo. L'evento è rivolto a persone di ogni età grazie a una lunga serie di iniziative organizzate. Sosteniamo con piacere questa prima edizione del Fano Fitness Festival, perché sposa molto da vicino il sistema valoriale di TechFem, soprattutto per l'attenzione all'attività sportiva e al movimento come valore fondamentale del benessere psicofisico anche dei nostri lavoratori, tant'è che adottiamo pratiche analoghe anche all'interno del nostro sistema di welfare aziendale. È la prima edizione, diamo fiducia a questa compagine di ragazzi giovani che credono nello sport, di tutte le tipologie, accessibili a tutti, quindi molto inclusivo per tutte le fasce d'età e tutte le abilità. E soprattutto perché tende anche a valorizzare le bellezze della nostra città. Sarà sicuramente una bella iniziativa che ci darà compagnia per tutto il weekend e la troveremo nei luoghi simbolici della nostra città, nel centro storico, dove tutti potremo recarci e prendere parte. Ci saranno anche momenti convegnistici per approfondire delle tematiche molto interessanti e anche di benessere psicologico e invito tutti a partecipare. Dal 20 al 26 maggio è la volta di Mondavio, capitale al quadrato del progetto 50x50 dedicato alle eccellenze della provincia. Il programma della settimana dal titolo Mondavio tra cultura e paesaggio propone un ricco calendario tra arte, poesia, danza e tradizioni gastronomiche. Ieri si è svolta la conferenza stampa di presentazione e lunedì 20 maggio si terrà l'inaugurazione della settimana con la cerimonia di assegnazione del riconoscimento d'eco, denominazione comunale d'origine, ai tacconi di Mondavio. Domani alla cooperativa Tre Ponti di Fano verrà nuovamente allestito il maxi schermo per poter guardare e tifare la Smart System Fano che alle ore 18 giocherà contro Personal Time Sandona. Si tratta della gara 2 di finale play-off del campionato di Serie A3 di pallavolo. Invece domenica 19 maggio l'Inter Club Facchetti, in collaborazione con la cooperativa Tre Ponti, organizza un momento di festa per celebrare lo scudetto e la conseguente seconda stella dell'Inter. Domenica, al termine della gara contro la Lazio, ci sarà una degustazione. L'evento si svolgerà nel salone della cooperativa Tre Ponti di Via Chiaruccia 16 a Fano. Dopo di noi le previsioni del tempo e poi un approfondimento elettorale con Lucia Tarsi a seguire uno speciale della BCC Fano intitolato Abbiamo a cura la tua salute e infine uno speciale della Confesercenti dal titolo Cultura Panis. Vi ricordo che domenica 19 maggio alle ore 21 trasmetteremo il secondo dei quattro appuntamenti dedicati a Spazio Slurp, l'iniziativa organizzata all'edizione della Paese dei Balocchi dedicata all'educazione alimentare dei bambini e condotta da Sergio Ferri. Termina qui il nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento su Fano TV. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento su Fano TV.